buongiorno ragazzi movie maker per voi in questi giorni poi c'è il d23 expo e ieri proprio al d23 expo che sarebbe praticamente un evento che fanno ogni due anni a disney per presentare novità dato che le novità della disney c'è anche star wars c'è questo nuovo trailer di the mandalorian praticamente la strada di un cacciatore d'italia successivo a jungle fett e boba fett nell'universo di star wars che sarà in esclusiva in streaming dal 12 novembre sulla piattaforma di disney più la nuova piattaforma che disney ha creato per raccogliere tutti i suoi contenuti fare guarda netflix eccetera eccetera vediamo questo trailer trailer di the mandalorian pronti ragazzi 3 2 1 the mandalorian potete ammettere il suo livello in un bel luca spiel potete ammettere il suo Gregor sarcatto buongiorno これ è questo ogni tanto an tutto o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci resta che aspettare. Spero che questa trailer action vi sia piaciuta. Alla prossima. Iscrivetevi ragazzi. Movie Maker. Ciao.